Musica Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla Oggi andiamo via all'edizione 3 di Jim Fein Chissà che cosa vedremo oggi, ma poche chiacchiere, iniziamo Questo è un classico Sì, sì, questo è il classico secco che non riesce ad appendersi Questo cosa fa, si fa inculare dal peso Sì Povera schiena Una specie di stretching Calistetics Ma donna, è difficile di butto Veramente, è bravo però Cazzo che male Però è bravissimo Questo è un pazzo No, questo è morto È morto questo Questo l'avevo visto già MMA M.A Che cazzo c'è Ah, c'è il tuo bene Oh, aia Ha perso la testa questa Ma dov'era la pasta? Vediamo il replay Ah, gli ha attirato con lo dietro Ah, pazza Poi sul gomito, dai Crossfit, credo No, questa che legge il libro Come ottimizzare i tempi Studiare Allenare Mi fa concentrare Sì, esatto Questa è a casa Guarda che funziona Ma perché? Così diverte perché è alto Ok, questo ottimizza i tempi Addome e schiena Una specie di breaker Questo Oh, madò Madò Vediamo questo Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ho specchio di stessi scuote Questa No Questa cosa fa Tipo Ma questo lo faccio anche io Con il pastore in palestra Di solito Questo Con il peso Un pazzo Questa dorme Si rilassa in palestra Allora Il mio prof Svegliato E' Hitler questo Guarda E' Hitler Strofa Guarda sono un po' capezzera Guarda che è capezzera Quando fai il push up Ah questo anche lui Ottimizza il tempo Invece la cazione No vabbè crossfit Ovvio che Spiderman workout Ma cosa serve più che altro Ecco vedi Oh bravo Hai visto non mettere i dischi Non mettere i fermi Questo può essere utile in realtà Una cosa per sciagarti Cosa allenerà Questo si sta masturbando In palestra Di nascosto Attenzione Ginnastica Oh la madonna Ma è possibile È finto Sì Proposito cracco Ho sentito Sì questa Bigga workout Questa l'ho fatta anch'io una volta È successo anche a me Gli freestyle mi fanno sempre paura Style No vabbè dai Come uscire con stile Come uscire con stile Ma che cazzo È impossibile È impossibile Questo è malato No se ha problemi Come gli altri Sono sempre queste cose qua Tipo scalatori Io non riesco capire che cazzo fanno Spiderman Ecco vabbè Spiderman Ecco vabbè Aia Minchia Questa vedere Non è quasi Ai collarini Ah vabbè Classico Però la musicetta qua Sembra più motivazionale Minchia Altra ma uno Oh bene dai Morto Minchia che buono Che fanno Ah Vedete di che dai Qui Marco ha votato Motivazionale E fail Sembra motivazionale Ecco fail Sono felice Sì Sono troppo contento Finisce così Finisce così Pensavo peggio Bene raga Il video per oggi Finisce qui Sto veramente divertente Come avete visto Sempre qualche piccola chicca nostra Ovviamente I prossimi avranno Molte molte più robe Su di noi Però questo direi Che è stato molto simpatico Se volete vedere altri video Mi raccomando ragazzi Cliccate sul tasto like A 1500 like Vi mostreremo Il prossimo Gin fail Mi raccomando Condivetevi il video Iscrivetevi al canale Anche su instagram E noi ci vediamo In un prossimo video Bella raga Per la prima volta In italia Oh Parca di roia Falla vedere Falla vedere Falla vedere Oh Spurca E per il tre Schertando Voi siete da denunciare No Oh Farsi sparare Un colpo Con la pistola Piombini Da ogni giocatore Altra E per il tre E per il tre